Presidente, una bella soddisfazione riuscire a passare il turno in Coppa Italia, buona la prima, perché diciamo che questo era l'esordio ufficiale per il Pineto in questa stagione. Ci sono stati momenti positivi, momenti di calo durante il corso della partita, ma ci sta comunque un buon test in vista del campionato. Sì, sicuramente risentiamo, i ragazzi risentono una preparazione molto accurata, molto forte, diciamo che vengono da un mese intensissimo di preparazione sia la mattina che la sera che nel pomeriggio, quindi chiaramente poi questo si risente. Infatti abbiamo visto un buon 15 minuti del primo tempo e un buon finale gli ultimi 20 minuti. Poi chiaramente la partita l'avete vista anche voi, aspettiamo dei momenti che stanno meglio. Non è così soddisfatto il Presidente Bro? No, 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 bisogna essere comunque soddisfatti, comunque. Però ecco, visivamente diciamo che l'andamento della partita non è stata costante, brillante come i primi 20 minuti. Chiaramente hanno avuto un calo fisico, fisiologico normale per una preparazione così forte, così sostenuta. Penso che questo possa risentire anche domenica, insomma i ragazzi ne possano risentire anche domenica prossima per la prima di campionato? Beh, domenica è la prima di campionato, il campionato è tutta un'altra storia. Oggi la partita è stata così piacevole, senza falli, senza istruzioni, senza niente. Il gioco del campionato è diverso, c'è un altro approccio. Quindi si aspetta una gara insomma più agonistica da parte dei suoi? Sicuramente ci sarà più agonismo, la Coppa Italia all'inizio, il calcio di agosto è così, è così. Beh, abbiamo anche quest'anno, abbiamo messo su un organico diciamo buono, di primo livello, per competere bene in questo campionato. La quarta serie, insomma, è un campionato difficile, bisogna organizzarsi bene. Crediamo in un buon campionato, poi quale sarà il risultato finale ce lo dirà il campo, ma i ragazzi sono in gamba, quindi io mi aspetto belle cose, sicuramente belle cose. È da vedere, il campionato sicuramente è da vedere, tutti giocheranno per vincere, non ci sono squadre che giocano per non fare punti. Quindi alla fine sarà difficile per tutti, sarà difficile per tutti.